Tu hai detto di aver ricevuto degli input da Daniele, quali sono questi input? Vabbè, degli input, cioè nel senso noi parliamo sempre, stiamo le notate a parlare di cose sue, di cose mie, abbiamo condiviso molte cose. Poi, ripeto, Antonino qualche puntata fa, nelle puntate precedenti, disse gli occhi non mentono, le sensazioni quindi nemmeno. Quindi questo discorso vale solo per le coppie delle quali la donna non è una trans, fatemi capire. Ma no, ma è ovvio che no. E gli occhi non valgono. Ma è ovvio che no, questa è la palissima. Le sensazioni che io provo verso una persona le posso sapere solo io e mi dà molto fastidio quando ripetutamente altri partecipanti della casa mettono sempre in dubbio la veridicità delle mie parole e delle mie sensazioni perché io in questo momento sto parlando del mio dolore e della mia vita sofferta. Questa è una cosa che dà molto fastidio. Non gliene faccio una colpa perché alcuni partecipanti sono molto giovani e quindi non conoscono la tematica trans. Ok, guarda, allora Eleanor, mettiamola così. Io capisco e conosco le tue sofferenze, cioè conosco, capisco ma non posso conoscere le tue sofferenze. Non ho motivo di mettere in dubbio la profondità di queste sofferenze. Però critico, o comunque metto in discussione, il fatto A di legare certe delusioni alla tua realtà di essere transessuale perché questa è una tua chiave di lettura ma che vale per te ma vale per qualsiasi persona di questo mondo perché tutti abbiamo preso un palo prima o poi nella vita.